Qualche volta secondo me si era parlato dei diffidati ammoniti guarda caso cioè proprio lui che è un ex giocatore di una Juventus contro la quale guarda caso spesso venivano ammoniti i giocatori che avrebbero giocato contro di lei quindi queste cose sono basse, non ha bisogno di questo Quindi questa cosa tu l'hai sdoganata proprio il fatto che ci fosse un disegno in quel periodo lì? No, è venuto fuori dalle inchieste che guarda caso molti giocatori che erano diffidati e dovevano affrontare la Juventus la settimana dopo la Juventus di Moggi e Giraudo spesso questi giocatori venivano ammoniti Mughini vuol dire qualcosa su questo? Mi chiamate la battuta ma non lo voglio fare Io non avrei voluto che venisse tirata fuori questa cosa perché nelle indagini sono venute fuori naturalmente le cose su... comunque sono venute fuori che alcuni giocatori non erano affatto ammoniti alcuni sono stati ammoniti ma è un andare dietro delle ipotesi figurati per carità però non trovo elegante tirar fuori queste cose eh ma tirate fuori Conte, sono d'accordo con Mughini Anche perché non ne sono uscite tantissime altre per andare dietro l'ottimo collega Crosetti per andare dietro l'ottimo collega Crosetti per andare dietro l'ottimo collega Crosetti magari... per andare dietro l'ottimo collega Crosetti per andare dietro l'ottimo collega Crosetti